Siamo a fine 2020, un anno difficilissimo, si comincia ad intravedere però la luce perché è arrivato questo vaccino. Sì, è una vera gioia quello che sta succedendo, questa disponibilità che ha anticipato rispetto a quello che potevamo temere di almeno due mesi reali l'inizio della vaccinazione di massa, quindi questa è una cosa che ci conforta tanto perché chiaramente potremo con un calendario ovviamente molto ben meditato e circostanziato nel più breve tempo possibile raggiungere un'alta proporzione dei pazienti ad alto rischio di sviluppare una malattia in caso di contagio e quindi ridurre fortemente sia gli oneri conseguenti a questa malattia in termini di salute e di mortalità ma anche la pressione assistenziale. Quindi tutto il sistema si gioverà enormemente di questo cambiamento. Assolutamente sì, purtroppo nei mesi di maggio e di giugno abbiamo avuto una lunga coda di trasmissione nosocomiale di questa malattia legata giustamente alla mancanza di immunità tra medici e infermieri e alla suscettibilità delle popolazioni fragili delle residenze sanitarie protette ed assistite. Per cui questo dovrebbe essere uno scenario che si modifica rapidamente e questa è una delle note più piacevoli di questa vicenda. Prima che il numero dei vaccinati riesca a raggiungere un'entità, una dimensione tale da poter consentire effettivamente una riduzione significativa della trasmissione del virus per riduzione dei suscettibili almeno altri tre mesi, almeno altri tre mesi li dobbiamo aspettare. Quindi nei prossimi tre mesi dal punto di vista dei comportamenti di prevenzione primaria la nostra responsabilità personale rimane del tutto immodificata. Cioè la ripresa della circolazione del virus dipenderà dai soliti tra virgolette tre fattori cioè il numero di situazioni in cui senza barriera le persone possono trasmettere per via aerea tra queste le scuole dove quindi bisognerà stare molto attenti. Il numero di circostanze in cui in locali pubblici le persone sono autorizzate a condividere uno spazio chiuso senza mascherina, leggi ristoranti ed altre situazioni di questo tipo e poi il numero di persone che nella condizione di convivenza privata effettivamente segue le regole di distanziamento. Quindi per i prossimi tre mesi gli effetti sulla macro popolazione dipenderanno molto dalla nostra oramai consapevole, spero, partecipazione a queste misure. Cioè quanto più ognuno di noi nel suo piccolo farà quello che bisogna fare tanto più abbiamo la probabilità che la terza ondata sia spuntata. Secondo lei è giusto riaprire le scuole il 7 gennaio in questa situazione? Allora se continua a scendere così il numero dei casi di trasmissione primaria sì con la maggiore e ancora maggiore responsabilità di sapere che ogni focolaio scolastico rinnesca la trasmissione quindi diciamo che sono allo studio tutta una serie di provvedimenti di ulteriore e drastica vigilanza sulla trasmissione scolastica. Grazie a tutti! Grazie.